Buongiorno a tutti e benvenuti a questo video tutorial perché oggi 10 agosto e fino al 21 di agosto sarà possibile per tutti i docenti inseriti in GAE, gradatori all'esaurimento, o nelle GPS, gradatori provinciali per le supplenze, poter presentare l'istanza informatizzata per la prima volta, delle nomine delle supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche, proprio collegandosi sul sito del Ministero dell'Istruzione nelle istanze online. Andiamo a vedere proprio come fare la simulazione della domanda. Si procede andando su direttamente una volta entrati con le proprie credenziali o con lo speed su istanze online, vedete abbiamo immediatamente, entriamo in un ambiente dove c'è proprio in risalto l'istanza di informatizzazione nomine per le supplenze. Si accede direttamente da qui, facciamo clic e entriamo proprio in una pagina dove c'è una informatizzazione anche per i diritti alla privacy e facendo avanti, scorrendo in fondo e facendo avanti, entreremo proprio nella parte che è riferita alle domande. Qui c'è l'elenco delle domande e le gradatorie dove il docente può fare domande. In questo caso è la provincia e quella di Reggio Calabria, le gradatorie sono la 049, la 048, il sostegno per le scuole medie e il sostegno per le scuole superiori. Dunque su queste quattro classi di concorso sarà possibile accedere e presentare l'istanza per le supplenze. In una domanda unica si faranno domande sia per le supplenze ed eventualmente anche per l'immissione ruolo da prima fascia o elenchi aggiuntivi. Facendo accedi si entrerà in prima istanza nel modello di presentazione che può essere o visualizzato o modificato, nel nostro caso facciamo modifica, entriamo nei dati personali, dati sensibili chiaramente e facendo ancora avanti entreremo proprio nella nostra domanda che è composta da 1, 2, 3, 4, 5 sezioni. La prima sezione è quella degli insegnamenti ed è un'azione già automaticamente inserita dove si inseriscono appunto, noi le abbiamo già inserite, le classi di concorso su cui richiedere fare l'istanza, proporre l'istanza per la, in questo caso siccome una seconda fascia, per le supplenze di carattere annuale, cioè fino al 31 agosto, di carattere temporaneo fino al termine delle attività didattiche al 30 giugno. In maniera particolare poi anche con spezzoni che vanno da 7 a 17 ore con completamente i possibili o nello stesso insegnamento o in insegnamento differente o cattedre orario sullo stesso comune o su comuni differenti. Ma in un prossimo video andremo a vedere la specifica compilazione delle preferenze sia di scuola e che sia di a carattere diciamo non puntuale ma sintetico comune o distretto. Vi ringraziamo, speriamo che questa parte dei video tutorial sia utile ai nostri lettori. Arrivederci. Grazie. Grazie. Grazie.